Nuove divise realizzate con tessuti riciclati e una flotta di veicoli sempre più green. Anche Posti Italiane aumenta la sua attenzione nei confronti dell'ambiente, un imperativo del resto per tutte le grandi aziende. Oltre alle divise, i portalettere di Pavia avranno in dotazione anche i nuovi palmari, che permettono di offrire a domicilio servizi come il pagamento dei bollettini di conto corrente o l'invio di raccomandate. Nel centro di Pavia sono state consegnate oltre 60 kit di divise. Queste nuove divise hanno uno stile più moderno, hanno dei materiali completamente riciclati e sono formati da fibre elastometriche. In più questi prodotti sono resistenti ai vari lavaggi, rendono comunque molto confortevole le nuove esigenze di lavoro, hanno un'alta traspirabilità e comunque tengono molto caldi. In provincia di Pavia Poste consegna più di 100.000 pacchi al mese, oltre 35.000 dei quali, gestiti dal centro di distribuzione del capoluogo. L'attenzione all'ambiente in questo caso è rappresentata dai mezzi elettrici utilizzati dai portalettere. Nella provincia di Pavia ci sono 250 mezzi, dei quali 60, oltre 60 mezzi, sono praticamente a carico del CD di Pavia Brambilla. Di questi 60 mezzi il 72% sono totalmente green. Infatti possiamo dire che Pavia Città è servita solo da mezzi green. Poi Pavia Brambilla serve inoltre 25 comuni che vanno da Linarolo a Casorate, insomma sono un raggio di almeno 20-25 km, quindi a distanza da comune e comune arriviamo anche a 50 km, per farvi capire quant'è l'ampiezza del nostro raggio d'azione.